Musica Siamo a tutta la serie delle lampade convenzionali, in questo caso parliamo di una 300W MSR Fastbit che viene posizionata nella serie delle teste mobili Sagitter sia versione BIM che versione Sport la versione BIM è il fiore all'occhiello della nuova linea Sagitter, infatti ha alcuni brevetti che lo arricchiscono per esempio la possibilità di avere una lente BIM motorizzata, oggi è considerato il faro che nel proprio rapporto qualità-prezzo è leader nel settore del faro BIM sia da 300W che da 700W. Musica 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 Grazie a tutti.